Se guardiamo anche il container è cresciuta la componente importante del container, cioè il dato complessivo è calato, ma è calato il transhipment ed è quello che ha creato il calo complessivo del container, ma se guardiamo il ruolo di inoltro delle merci, l'arrivo a Trieste e l'inoltro in Europa con i treni, quello continua a crescere e continua a crescere nel 2019, nel 2020 e nel 2021. Ecco perché l'adeguamento del porto di Trieste e i cambiamenti in corso nel mercato dei contenitori è decisivo se si vuole tenere il passo con la crescita della domanda. In effetti però anche il fenomeno del gigantismo navale sta cambiando forma, da un maggiore pescaggio e lunghezza delle navi si sta passando progressivamente ad un aumento della larghezza delle stesse per ospitare più merci, senza finire per costruire scafi limitati nella possibile geografia delle toccate. Da qui anche la modifica al progetto di allungamento del Molo VII gestito da Trieste Marine Terminal. Cioè da una parte non c'è l'allungamento totale del Molo, ma solo di una parte, ma vengono modificate le gru che vengono messe, il che permette, avendo noi pescaggi importanti, di ospitare navi che oggi non potremmo ospitare, che sono oggi arriviamo fino a 15.000, adesso possiamo arrivare fino a 18.000. Perché ultimamente le navi non crescono più in profondità ma in larghezza, quindi il problema non è più andare a scavare ma è avere gru che permettono di arrivare per la larghezza. Procede spedito anche il lavoro dell'autority in supporto all'investimento del governo ungherese nell'area ex Aquila, dove sorgerà il futuro terminal con in prospettiva anche il collegamento ferroviario situato all'imbocco del canale navigabile. In questo caso però il settore merceologico di interesse non sarà quello dei contenitori. Sarà più dedicata diciamo al cosiddetto bulk, rinfuse e quant'altro. E nell'ottica della diversificazione il porto di Trieste continua a muoversi anche sul fronte croceristico. Dopo l'apertura alle navi bianche anche a Monfalcone e una volta superata la parentesi pandemica che ha messo in crisi il settore, la prospettiva è quella di far sorgere la nuova stazione croceristica in Portovecchio, anche se al momento, e di questo va tenuto conto, l'area dell'Adria Terminal continua a registrare volumi di lavoro interessanti. Adria Terminal può diventare un bel terminal crociere, chiaramente bisogna vedere cosa succede a livello di Adriatico con le crociere e quant'altro, quindi è lì, per adesso abbiamo attività, queste attività arrivano ancora per qualche anno, abbiamo sviluppato le crociere addirittura anche a Monfalcone piuttosto che in altri porti, quindi lì la possibilità c'è, abbiamo fatto una nave proprio nei giorni della protesta, quindi sappiamo che le navi ci possono arrivare senza tagliare la diga.